Ciao amici e Revotech a tutti! Oggi passiamo dall'ammiraglia che abbiamo visto l'altro giorno da ben 699 euro con tantissime funzioni di nicchia per alpinisti, per arrampicatori, per avventurieri, escursionisti e che più ne ha più ne metta un prodottino per comuni mortali ma non meno interessante qui siamo davanti a un prodotto che sta al di sotto dei 50 euro con il coupon e le offerte che metteremo con GPS integrato, con rilevamento dell'ossigeno nel sangue, rilevamento del sonno e anche buona affidabilità per quanto riguarda il battito cardiaco. Le notifiche sono complete, arrivano tutte ma non possiamo rispondere quindi di fatto non è uno smartwatch ma è un orologio fitness, chiamiamolo così, con un'ottima autonomia poca watch face, poca personalizzazione però tutto ciò che è essenziale è presente e ciò che fa lo fa bene. Subito dopo la sigla lo apriamo, lo spacchettiamo e lo configuriamo insieme Eccoci qua, lo andiamo ad aprire, guardiamo come è fatto, lo abbiniamo al nostro smartphone e vediamo insieme le caratteristiche di questo orologio, smartwatch viene chiamato dall'azienda GPS Doji DG CR1 Pro. Era uscito anche il modello CR1 standard ma noi non l'abbiamo provato c'è il monitor del sonno, l'ossigeno nel sangue, l'allerta chiamata, sms e altre app diciamo le più importanti, whatsapp, instagram, facebook, le mail. Poi abbiamo il controllo del battito cardiaco preciso, anche 24 ore su 24 e un activity tracker con multi sport e calorie. Ma uno degli aspetti sicuramente più interessanti è che in una fascia di prezzo che sta attorno ai 40-50 euro con le offerte ci troviamo ad avere a che fare con un dispositivo indossabile che ha il rilevamento automatico dell'allenamento. Si possono selezionare solo due attività, la corsa e la camminata, però non è facile trovare sul mercato degli oggetti che costano così poco che hanno anche il rilevamento dell'allenamento automatico. Mettiamo via l'orologio, andiamo a vedere cosa c'è nella scarsissima confezione, vedete plasticaccia, mettiamo via. Qui abbiamo il manualino di avvio rapido per spiegare l'abbinamento con lo smartphone, non c'è, si c'è anche l'italiano, benissimo. Doji è attenta anche alle istruzioni nella nostra lingua, molto bene. Qua dentro c'è il classico cavetto di ricarica con i pin che vanno appoggiati dietro all'orologio, qua, in questa posizione. Basta metterli così. Bisogna trovare la parte magnetica giusta e poi procedere, vedete, sarà tratto magneticamente dai pin e qua bisogna attaccarlo a una porta USB, a un alimentatore con un amperaggio basso, possibilmente. Il cinturino, come potete vedere, non è proprio dei più esenti da ditate, strisciate e quant'altro. Si sporca facilmente, è di una gomma sicuramente non di qualità. Qui la fibbia è di metallo, c'è un ferma cinturino con il perno interno per poterlo bloccare nel buco che più ci è comodo. In ogni caso, indossato, il cinturino è comodo e non lo sentiamo e almeno non ha procurato alcun tipo di allergia. Abbiamo una lunetta intorno numerata con degli indici, vedete che è ben rifinito, è di metallo, lega di zinco e alluminio e la cassa dietro è in policarbonato rigido con i vari sensori. Due tasti funzione, uno per entrare nel menu delle app e per spegnerlo, se tenuto o premuto, e l'altro per entrare nel menu dedicato degli allenamenti. nessuno dei due ha la funzione di coroncina per navigare tra le categorie. Detto questo lo accendiamo tenendo premuto il tasto in alto a destra. Ecco questa è la watch face principale, molto molto minimal, molto molto scarna, non c'è veramente molto da visualizzare, c'è il movimento del posto che è decisamente sensibile, quindi non vi perderete alcun movimento nel momento in cui dovrete guardare l'ora, qui abbiamo anche il tastino che è rifinito di rosso intorno nella coroncina, mentre l'altro è tutto grigio. Bene l'app che serve per abbinarlo è la Verifit, questa qui. Dovete andare a creare un account oppure entrate anche come ospiti senza alloggarvi, infatti vedete che io non ho fatto l'accesso perché altrimenti ogni volta è un disastro. Vi elenca tutti i dati ed è preciso perché si sincronizza a intervalli regolari, non in tempo reale ma ogni tanto vi esce una notifica sullo smartwatch e vi dice orologio sincronizzato e vi esce anche una notifica in alto sullo smartphone che vi avverte che i dati sono stati sincronizzati correttamente. Poi per ogni menu, per ogni voce di queste potete accedere e andare ad analizzare e a guardare i dati che avete ottenuto, la distanza, la camminata, il sonno, è molto preciso nel rilevamento del sonno, non me l'aspettavo, l'ho indossato per diverse notti ed è stato molto preciso, qua mi dice 9 ore di sonno ma non sono 9 ore continuative, lui somma i vari pezzettini di sonno nell'arco delle 24 ore, quindi se io mi faccio un pisolino al pomeriggio e poi dormo 7 ore di notte, lui mi va a sommare le varie dormite, tra virgolette, e me le mette tutte insieme, quelle delle 24 ore precedenti. Mi dà anche il punteggio del sonno, mi dice la qualità buona e analisi del sonno mi fa vedere tutte le varie fasi, 1 ore 2 minuti sveglio, sonno leggero 5 ore 7 minuti e sonno profondo 2 ore 47 minuti, poi vi spiega anche alcune cose, tutto in italiano, poi c'è il monitoraggio della frequenza cardiaca, vi dice la media, la minima, la massima, l'ossigeno nel sangue e il livello di stress che viene rilevato mescolando un po' tutti questi dati che sono stati raccolti, poi c'è sono delle impostazioni che vi permettono di anche impostare, non so, un promemoria sullo stress eccessivo, tanto per vederne una. Poi visualizza tutti i dati, andate ancora di più nel dettaglio, vi fa vedere l'elenco completo. L'app secondo me non è proprio ricchissima, però le cose che fa le fa bene ed è chiara ed è di facile lettura anche per chi inizia per la prima volta a utilizzare dispositivi di questo genere. GPS vi farò vedere il segnale qui in tempo reale, è molto veloce nel fix all'aperto, al chiuso fa fatica e non prende quasi mai, a differenza del Vertix che aveva provato che prendeva anche in cantina, questo invece prende bene all'aperto, ci vuole qualche secondo, avviate l'attività e lui in automatico si connette al GPS e vi tiene traccia del percorso, dopo vi faccio vedere. Poi ci sono le watch face, ci sono diverse watch face per argomento, non ce ne sono tantissime, potete impostare anche una foto personale e aggiungere uno sfondo a piacere, a livello grafico non sono niente di che, però sono essenziali e anche qui di chiara lettura. Poi pro memori chiamate le entrate, potete mettere anche il ritardo di 3 secondi, poi potete impostare le sveglie, notifiche abilitate, io ho messo queste ma potete disabilitare quelle che non vi interessano, monitoraggio della salute, abbiamo visto prima frequenza cardiaca, potete disabilitare quelle che non vi interessa monitorare, ad esempio il reminder sull'acqua, io non l'ho tenuto abilitato perché sono uno che comunque beve spesso, poi c'è anche il monitoraggio del ciclo per le signorine che vogliono utilizzare questo dispositivo e poi ci sono più impostazioni con eventuali aggiornamenti, qua no, lingua, scorciatoia, notifiche meteo che vedremo anche nell'orologio, controllo della musica, trova telefono, solleva il posto per attivare lo schermo, non ci sono sensibilità intermedie, tipo di allenamento, vi fa vedere l'elenco degli allenamenti che sono nello smartwatch. Riconoscimento automatico dell'allenamento, vedete ce ne sono due, come dicevo prima, o la corso, la camminata, ho messo la camminata perché è quella che faccio più spesso, modalità non disturbare, potete abilitarla e anche programmarla a orari prestabiliti. Poi qua c'è il profilo e nel profilo ci sono, vedete vi chiede, tra l'altro c'è un aggiornamento adesso dell'app che fino a ieri non c'era, quindi andiamo ad aggiornare l'app e mentre aggiorniamo l'app per vedere se ci sono delle novità, vi faccio vedere come è fatta l'interfaccia di questo orologio. Innanzitutto swipe verso l'alto, toggle rapidi, modalità non disturbare, movimento del polso abilitato o disabilitato, se abilito la modalità notte non si attiva lo schermo ma contestualmente è meglio disabilitare anche il movimento del polso se dormite, poi trova telefono, luminosità che arriva fino a 3, io la tengo a 2 è più che sufficiente, poi impostazioni, tempo di accensione schermo, potete decidere quanti secondi tenerlo attivo, fino a 20 secondi. C'è anche una pellicola installata, non so se si vede contro luce, poi arriverò a toglierla ma non dà molto fastidio devo dire. Il bordo nero intorno al display che comunque è un IPS è accettabile, dopo vi parlerò in modo più approfondito del display, adesso continuiamo a vedere le funzioni, oscuramento, la luminosità è tradotto malissimo, schermate orologio, quelle di default sono 1, 2, 3 e 4, anzi sono 3 perché questa qua l'ho aggiunta alla fine, ogni volta che aggiungete una nuova watch face dovete cancellarne una delle quattro, dopo vi faccio vedere dall'app come si fa. Io tengo questa perché è abbastanza minima ma è carina, una grafica diciamo decente e mi dice la batteria, la data, tra l'altro il menu della data è in italiano, quindi piccola cosa che apprezzo sempre molto, in questi orologi che spesso sono in lingua inglese, invece 12 gennaio, questo mi piace. Poi mi dà le calorie e mi segna i passi, quindi tutto molto minimal però c'è un po' tutto e la grafica è piacevole. È un TFT LCD con risoluzione di 240x240 pixel, quindi abbastanza definito, da 1,28 pollici. Le misure 45x45x11,5 mm di spessore, non è sottilissimo ma neanche un mattone. Pesa 46 grammi, la metà del Vertix. Lega di zinco e alluminio, la cassa, quindi dà un'idea comunque di resistenza importante e dietro come detto policarbonato. Sistema operativo proprietario, abbiamo una CPU nordico NRF52840 che è il chip che lo alimenta, non c'è memoria interna, non ci sono slot per schede di alcun tipo, è dotato di bluetooth 5.0, è una batteria da 300 mAh con 49 giorni di autonomia in standby e 7 giorni di utilizzo tipico, utilizzandolo diciamo normalmente e finora è stato rispettato perché io è da una decina di giorni che lo uso e l'ho caricato una volta sola, perciò siamo tranquillamente nel range che promette l'azienda. cavo di ricarica magnetico resistente all'acqua fino a 5 atmosfere e il vetro davanti è un vetro temperato. I sensori, abbiamo il G-sensor, cardiofrequenzimetro, monitoraggio di ossigeno nel sangue e GPS integrato, quindi potete tranquillamente svolgere le vostre attività fitness, adesso andiamo a vedere quali sono, senza bisogno di portarvi dietro per forza il vostro smartphone, perché poi quando rientrate a casa in automatico lui sincronizzerà tutti i dati con l'app. Corsa all'aperto, corsa al chiuso, passeggiata all'aperto, passeggiata al chiuso, con le impostazioni, vedete potete selezionare degli obiettivi direttamente da qui, escursione, c'è anche l'escursione, anche qua bisogna andare a selezionare gli obiettivi che volete o la distanza o la durata o le calorie. Swipe verso destra si torna indietro, è molto comoda questa funzione perché in quasi tutti gli smartwatch di questa fascia di prezzo spesso invece bisogna cliccare il tasto indietro ed è scomodo invece lo swipe, anche se il touch non è proprio dei più reattivi, dei più precisi, è comunque un vantaggio. Nuoto in piscina, nuoto in acque libere, quindi si può nuotare anche in teoria al mare, vogatore e ellittica, non ci sono altri sport però direi che quelli principali sono qui riportati. Swipe verso sinistra, controllo della musica, stress 61 in questo momento, frequenza cardinica, meteo, è molto minimal, non esce dal menu, interessante se vai in stand by, sono tutte piccoli accorgimenti che in uno smartwatch sono molto graditi, i passi e le calorie. Poi ci torna alla schermata principale, swipe verso il basso, ci sono le notifiche da andare a leggere e devo dire che si leggono bene e non vengono cancellate finché non le cancellate voi. Se io apro questa la vado a leggere, non mi fa vedere tutta la schermata, mi fa vedere praticamente un promemoria, cancella, poi vado a vedere questa, vedete non me le fa leggere tutta, completa, questo è sicuramente un deficit, però mi mette l'icona dell'app, me li fa vedere tutti, l'unica cosa che non mi fa leggere completamente tutta la notifica, potete anche eliminare facendo swipe verso sinistra. Poi tasto principale, dati sanitari, vi fa vedere l'elenco che potreste vedere anche sull'app, allenamento si entra anche da qui volendo, vedete cliccando lui parte e poi cliccando di nuovo potete fermarlo e ovviamente non lo registra perché l'avete appena iniziato. Record di allenamento, vi fa vedere i registri degli allenamenti fatti, frequenza cardiaca, sonno, ecco vi fa vedere i dati del sonno anche qua, tutto l'elenco dettagliato, ossigeno nel sangue, stress, allenamento del respiro, quindi si può anche fare esercizi di respirazione, cronometro, timer, sveglia, controllo musica, meteo, con anche vi da due giorni di previsioni. Trova telefono, squillerà il telefono quindi evitiamo e impostazioni di sistema che l'abbiamo visto prima, c'è anche il menu riavvia, spegnimento e reset e informazioni di sistema. DG CR1 Pro, GPS, versione V2, è compatibile per Android e iOS, un plauso senz'altro alla vibrazione che è bella maschia quando vi arrivano le notifiche e anche quando vi arriva il reminder delle chiamate, sicuramente è impossibile non sentirle perché è veramente forte e profonda. Adesso lo indossiamo per farvi vedere come è il polso, come sta il polso, sta molto bene, è molto fine, è un bel dispositivo, a me piace e per il prezzo al quale viene proposto lo metterei quasi a livello del Cospet Magic 4 che abbiamo recensito poco tempo fa. Vedete che la sensibilità del polso è molto buona e non vi perderete mai l'orario. Non ce l'ho lui su un display ovviamente perché non siamo davanti a un display AMOLED. Vediamo come si è aggiornata l'app, se ci sono delle novità, no, non sembra, avranno sistemato alcuni bug e vedete si è collegato, aggiornamento dispositivo, vediamo se ci sono aggiornamenti dello smartwatch, no, l'ultima versione, riavviare, cancellare, scarichiamo una di queste watch face, proviamo questa, installa e vediamo quanto ci mette. Vi chiederà di toglierne una, togliamo questa, l'ultima, se siamo obbligati sempre a togliere l'ultima, le altre non le toglie, installa, vediamo quanto ci mette, vedete che anche a schermo mi arriva la notifica, ecco fatto, ci mette poco e la applica automaticamente. L'app a me piace, seppur non completissima, però ben fatta, tra l'altro avete visto si è appena aggiornata, questa è una watch face che a me piace, anche questa molto minima, non ci sono dati come sulla watch face principale, però è fine e non ha una brutta grafica. Anche la risoluzione è buona, la luminosità è buona, non c'è la possibilità di mettere la luminosità automatica, ma è solo manuale, ma vi assicuro che già a due, anche all'aperto, si vede benissimo e potete svolgere i vostri allenamenti tranquillamente anche con la luminosità a metà. Detto questo, se vi interessa metteremo il link con l'offerta laddove presente, con coupon dedicato, vi invitiamo sul gruppo Revotech Group su Telegram, salutiamo gli amici malati di smartphone e di smartwatch e vi invitiamo a iscrivervi anche ai loro canali e gruppi su Telegram. Per oggi è tutto, ci vediamo prestissimo, un saluto da Pasqui e Revotech a tutti. Ciao!